Giovanni Verga, un scrittore, un drammaturgo, un senatore del Regno, un personaggio di ascendenza alto-borghese aristocratica che con l'espressione verismo ci consente di considerarlo un soggetto che ha aiutato la Sicilia post-unitaria ad acquisire consapevolezza dei propri problemi, delle proprie tragedie, dei propri aspetti caratteriali e anche dei propri aspetti popolari. Mastro Don Gesualdo, i Malavoglia, piuttosto che la Cavalleria Rusticana, segnano tra le tante opere il cammino di questo straordinario personaggio che ha dato autocoscienza ai siciliani dei nostri limiti e dei nostri pregi. In questo collegandosi all'autocoscienza provocata dal Gattopardo di Tommasino Ampedusa, provocata dalle opere di Sciascia, provocata dalle opere di Pirandello, provocata cioè da una serie di soggetti di straordinaria valenza letteraria che sono diventati però motivo di dibattito sociale e politico. Per questo l'iniziativa del Festival Berghiaro, l'iniziativa di Dream World, l'iniziativa di collegare Vigini, Catania e Palermo nel centenario della morte di Giovanni Verga va certamente apprezzata e va in qualche modo vissuta ponendoci la domanda che cosa resta nella vita siciliana di oggi delle criticità ma anche dei aspetti positivi che Giovanni Verga in maniera così magistrale ha descritto?